I legami familiari e i sentimenti, il nutrimento del nostro essere e l'emotività, la comprensione per rafforzare della fortezza, la casa, il palazzo, i pilastri, le pareti, l'albero, le foglie e le radici, il cielo, la terra, la luna e le stelle. Non sono parole buttate a casaccio. Abbiamo tutti bisogno di unirci, di compattarci, di parlare una lingua che sia comune, che sia compresa nel silenzio e sentire la vicinanza, il calore. Questa io la chiamo famiglia. Questa io la chiamo famiglia. Questa io la chiamo famiglia. Questa è la città. un bichagno Grazie a tutti.